si è ben tornati su travel starts ora nella cassa delle 5000 coppe mio padre mi trova Piper mi è bella ho già il grado 4 e Frank 529 coppe ci ho fatto e lo porto a livello 9 avrò l'abilità stellare che è furto energetico e baluardo e poi inseriamo una singola un puzzle ok sto cominciando fatemi sapere nei commenti se volete un glitch su come trovare nuovi brawler perchè io ne so due se questo video raggiunge 10 like ve lo farò vedere ok kill su tic bella kill attenzione a bo headshot attenzione qui vedete la madre di bo mi curo perché se non esco male mi curo perché se non esco male no la testa no va bene no va bene no va bene sesti fate una brutta mossa ma va bene sesti qui due tre tre fei va bene se lo possiamo giocare questo qui è il mio clan vedete guardate che sposto un attimo l'icono ecco questo è ale è il terzo profilo bibi grado 15 e anche corvo grado 13 invece questi sono i miei brawler spike l'ho portata al grado 11 e ho dynamic t che pia per sotto il grado 10 ma li porterà fino in avanti dopo questa partita ci facciamo una partita con spike un'altra piper damian no damian no che sfiga va bene però che ha più power up più uno ce lo concedono questo trofeo ok spike quanta mappa è questa è una mappa giusta per piper penso si usa per piper tornati nello scorso video quando quello che ho pubblicato ieri mia madre mi trova a spike l'ho pubblicato in ritardo perché non sono stato a casa questi giorni e non ho portato il telefono con me solo ieri sera mio padre mi ha trovato tutti con me l'hanno incredibile sono morto da nita qua si prende tutto piper che fortuna che fortuna meno di più va bene va bene va bene rigiochiamo con power perché la voglio portare il grado 5 a me mi mancano questi 6 brawler e se in una cassa mega cassa ci sono 6 bonus rimanenti c'è un brawler al 100% a me 6 bonus rimanenti questa qui spero un altro brawler è un attimo ok ci andiamo a fare una bella partitozza con piper ci facciamo le ultime tre partite e concluderà il video buono mi prende che grande botta in testa ok kill con piper carlin lì in difficoltà da solo uuuu lisciati bo preso cerco di prendere bo li vado addosso kill è strepitosa ma Carl mi uccide ok più 4 poi per giro 5 e vi devo lasciare con il video lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ciao